Bene ragazzi, bentornati in un nuovo video, giustamente oggi giornata di festa, non so bene quando pubblicherò questo video, però giustamente giorno di ferie vuol dire anche giorno di enduro. Ok, siamo in compagnia di Rodrigo, con il suo 300, di che anno è? 2022. Allora, nuovo di facca in pratica, adalo lì! Bella, appena fatto di fare le grafiche, appena segnate direi che è top. Buon, non perdiamo altro tempo, lì è il maestro, già lo conoscete. Sì, ma le frecce sono improponibili. Va bene, anche io avevo le frecce. Si sta staccando a sole. No, si sta staccando a sole. Sei mai venuto a girare qua sul lago? No. Prima volta? Prima. Allora, benvenuto! Porco, trovo! Mamma mia, guardare il ciclista mi stavo per ribalzare. Per fortuna che ci sono gli stivali, ma no. No. Non fatto c'è... Per fortuna... Tipo. Labattata... Per fortuna... Una tiu... Adesso che sono freddo! Adesso che sono freddo! E' un'altra cosa che sono freddo! E' un'altra cosa che sono freddo! beh buono dai dai hai inaugurato la freccia ah no si sposta ok è buono è partito già? no no allora mi fattamo con gli occhi e tu no no ho una seria difficoltà nel direzionare la moto perchè ho ricominciato ad andare in bici e i pesi sono tutti diversi in bici appena fai un gesto hai cambiato traiettoria in moto devi proprio sforzarla eh c'è un lavorone dietro per tenere una moto va là non è che prendi vai fai il filmato e sono tutti felici mamma mia tutti i sentieri che spariranno questi non ci passiamo noi ogni stop in questo paio si ma questi sono i tipici sentieri che se non li facciamo noi scompaiono hai preso hai preso la malattia delle scimmie che c'è ultimamente eh non so eh c'è una macetta? si già non lo voglio tirare qua vado giù è posto fuori 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 puoi mettiamo il divano fuori 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 quante calorie? beh 3 o 4 mila fuori sentiero pulito andiamo queste foglie non si vede niente ah era questo appunto che dicevo prima che non è per più dal mare non ho ripreso niente se non col telefono ottimo ok let's go ok porca troia via che buco che mi ha che sasso che mi ha tirato sarà stato grande come un pugno 5 volte che va in enduro riesce a fare un sacco di robe mi raccontava che aveva un 50 beta poi purtroppo si è convertito a KTM perché passare dal 50 di un beta a un K però vabbè dai tu che stai ascoltando e vedendo questo video ti perdono ti riconvertirò al beta un giorno salve salve sedeschi siamo pieni ormai sedeschi, austriati, olandesi un po' di americani, un po' di francesi tutte zone che in tempo di festa cominciano a popolarsi un po' troppo ma il lago di gardia è fatto così esistono due cose sicure sul lago di gardia anzi, sì dai, due che prima o poi inizia la stagione e prima o poi finisce burroni un po' a destra, un po' a sinistra classico ah dai buono proviamo i tornantini che non li abbiamo mai fatti o al solito come vuoi te? proviamo i tornantini ok 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 trollo trollo amaiasca mamma mia hai comando? no no diga dot Grazie a tutti. Grazie a tutti.